salve a tutte e tutti qui un'altra volta al vostro santo in cian in un nuovo video una giornata poco soleggiata perché voglio proporre il tema del giorno che controverso non perché va controverso ma perché se ne sono dette tante si sono detti tanti versi al riguardo che è il referendum sul cambio costituzionale 2016 cioè in pratica gennaio si è votato per far passare questo referendum del cambio della costituzione che si voterà questo referendum ad autunno in pratica secondo quanto ho sempre pensato ed è stato anche corroborato da quanto è successo nell'ultimo referendum come sempre sarà molto probabile che vinca il fronte dell'astenzionismo perché in italia difficilmente vince o il fronte del sì o il fronte del no soltanto grandi referendum aborto nucleare divorzio finanziazione dei partiti finanziazione dei giornali finanziazione della curia romana ha vinto e stravinto il sì soltanto che la gente è diventata scettica siamo tutti noi diventati scettici anzi cinici nei confronti della politica perché qualora vinceva si si doveva interpretare il sì le ragioni del no e poi alla fine è tutto come prima perché non si faceva niente ho fatto un pro un radioprogramma broadcast in sprecher spiegando questo le ragioni mi sembra che si titola la democrazia che tu sei libero di votare soprattutto se libero di votare in un referendum e politici la casta politica è libera di interpretare il tuo voto come vuole in pratica in alcun modo non si dovevano più finanziare i partiti e invece si è visto che negli ultimi vent'anni i partiti hanno continuato a essere foraggiati col denaro pubblico e pensare che invece non si dovrebbero più finanziare pubblicamente i giornali sono sono finanziati continuano a essere finanziati dal denaro pubblico a pensare che si è votato incontro anche a quello la curia romana vabbè dicono che tu sei libero di scegliere di dargli lotto per mille o il 5 per mille a chi vuoi ma se scegli lo stato la ricerca scientifica magari poi lo stesso lo stato italiano presta o dona denaro a seconda di come non si voglia interpretare alla curia romana al vaticano per cui alla fine lotto per mille e 5 per mille sono facoltativi alla chiesa romana però conosco molte persone che l'ultimo rapporto anno che ricevono ogni anno una busta da l'ins non hanno più ricevuto il modulo dell'otto per mille nel 5 per mille da destinare altri punti religiosi alla ricerca scientifica o allo stato quindi in pratica continuano i soldi dell'erario pubblico andare nelle arche della chiesa cattolica a prescindere che uno dovrebbe scegliere a chi dare lotto per mille il 5 per mille perché l'abbiamo scelto preferendaria mente l'ultimo referendum sulle torri estrative non è passato per mancanza di cuore un già la gente se ne frega si rassegna anzi quello che peggio se ne pote adesso l'altro non si farà un altro referendum perché serve spendere denaro di 100 milioni per non ragioni non raggiungere il cuore sul referendum sulle ipotesi estrativi che poi si è visto quello gli sversamenti che ci sono a genova e le contaminazioni in mare e nei fiumi nei correnti la gente intossicata beh credo che sia genova si non a venezia genova beh lì non si è raggiunto il cuore ma si sono spessi 300 milioni adesso si farà un altro referendum passerà il cuore passerà il sì passeranno tutti staranno a discutere che cosa succederebbe se passerebbe il sì che il governo vuole che passi sì io ho letto tanto in internet in questi giorni ma veramente non ci ho capito molto perché in linea di principio sono tutte cose giuste buone ma in pratica non si sa mai come le attuali come attuali però come realizzeranno tutte le cose che dicono che diminuiranno il numero dei politici dei deputati dei senatori si accentrerà di più il potere come attueranno tutte queste modificazioni comunque una premessa fondamentale che tutti si sono scordati per 50 anni o più anzi dal dopoguerra da quando si è votato nel 48 negli anni in quegli anni abbiamo avuto un'unica costituzione che magari è stata ritoccata e riformata malamente molte volte soprattutto negli anni 90 però di base era la stessa adesso io mi chiedo quante volte la costituzione che non avevamo non avevamo perché non l'applicavano non è stata rispettata infatti non è che non era non avevamo proprio costruzione ce l'avevamo adesso si pensa che non era perfetta il fatto è un altro che dal dopoguerra abbiamo avuto una costituzione un'unica costituzione malamente ritoccata molte volte che non è stata mai rispettata la lettera perché il problema dell'italia è sempre stata la partitocrazia che ha inquinato inficiato tutto è come un polipo che ha messo i suoi tentacoli dappertutto in consigli comunali amministrativi regionali aziende di stato private quindi anche se abbiamo avuto un'unica costituzione malamente ritoccata fino ad oggi bisogna vedere quante volte è stata rispettata nello spirito e nella lettera quella vecchia costituzione repubblicana adesso vogliono direttamente farne un'altra modificarla a tal punto che in pratica cambia costituzione non si può dire che è un referendum per la modifica costituzionale no cambia del tutto la costituzione italiana è un'altra ed io mi domando se partiti non sono mai riusciti a poter o voler rispettare la vecchia costituzione italiana perché mai dovranno arrivare a voler oa dove rispettare la costituzione che si stessi creano adesso ma fanno le costituzioni per salvarsi loro questa nuova costituzione la fanno per salvarsi così come hanno eliminato il reato penale di falso bilancio di azotaggio di truffa gravata di diciamo bancarrota fraudolenta non si va più in carcere per molte cose si pagano solo penalità e chi fa delle grandi truffe delle truffe alla grande poi preferisce pagare una pena amministrativa pecuniaria in denaro che è infima in confronto a quello che ha guadagnato con le tangenti con i ricatti le estorsioni il falso bilancio la truffa amministrativa la bancarrota fraudolenta sono tutte leggi che si sono fatti questa classe amministrativa politica dirigenziale ed imprenditoriale per continuare a colludere allegramente perché tanto ormai non rientra più nulla nel reato penale ma nel reato amministrativo e a volte le multe sono stabilite su criteri molto vetusti per cui oggi che magari ieri un milione di lire era molto negli anni 70 80 oggi per un'azienda piccola mille euro non sono nulla e magari ci hanno marciato per più di vent'anni guadagnando milioni di euro allora io mi chiedo non hanno mai rispettato la vecchia costituzione del tutto io non credo che l'abbiano mai rispettato i partiti politici i dirigenti gli amministratori la classe imprenditoriale a nessuno che poteva non da rispettare la vecchia costituzione adesso vogliono fare una nuova costituzione che in primis va a oltreggiare la vecchia costituzione in secondo luogo è un accordo è un accordo tra partiti e quindi più qualche cosa che i partiti vogliono non che la gente vuole la gente vuole che si applichi la costituzione alla lettera non che se ne facci una nuova che poi di punto bianco la creano così e non sarà rispettata come la vecchia perché i partiti politici e di politici quando gli convenivano le rispettavano la costituzione lo disse grazie quando già era sotto processo nell'ultimo discorso al parlamento la corruzione era sistematica ed endemica perché partiti politici avevano problemi a finanziarsi col denaro dell'erario pubblico allora si dovevano finanziare il nero con le tangenti ed era tutto capillare ramificato all'ultimo dei politici per entrare nel partito gli davano enorme busta lui la priva c'era una piccola mazzetta per lui e una busta che doveva dare un altro l'altro la priva prendeva un po di denaro e dava l'altra busta un altro fino a che arrivava il dirigente nel partito e che vi c'era la tangente vera il vero denaro che andava al partito e al dirigente del partito la tangente su cosa e quindi era tutta una catena di sant'antonio non si è mai rispettata la costituzione è tutto un verso che fanno per farci credere a noi cittadini che dobbiamo continuare a essere servi della griva di questa griva politica ha servita prima grande capitale alle industrie nostrani e adesso nell'era della globalizzazione alle grandi industrie multinazionali corporazioni e banche straniere ma noi siamo sempre noi cittadini borghesi i servi della griva di questa griva politica che sono gli amministratori questa casta politica di quelli che sono non sono più aristocratici perché non ci sono le monarchie almeno in italia ma sono gli oligarchi e gli elitisti quelli che hanno ingenti capitali che se ne fregano della costituzione quindi questa riforma costituzionale e suppostamente per rimediare a tutte le fallace che aveva la vecchia costituzione che si deve adattare ai tempi è vero che ci sono troppi politici però adesso ce ne saranno di meno se passarsi a rappresentarci quindi saremo comunque malamente rappresentati rappresentati saranno mali rappresentanti per cattivi rappresentanti volo dire comunque saremo malamente rappresentati perché prima c'erano troppi rappresentanti parlamentari senatori deputati per regione ma si vede con che grado di inefficienza e l'inefficacia e di mancanza di scrupoli rappresentavano le province le regioni e i cittadini adesso si ridurrà il novero soprattutto dei senatori e non è detto che ci rappresenteranno meglio perché mancheranno rappresentanti per le regioni le province le città e i cittadini in generale quindi prima eravamo malamente rappresentanti della classe politica amministrativa e dirigenziale perché c'erano troppi politici che non facevano cazzo adesso invece per razionalizzare i costi della politica che fra l'altro loro si aumentano il soldo e diminuiscono il numero e continuano a lavorare dopo i 70 anni pur percependo delle compensazioni quando ci sono delle persone che vorrebbero lavorare fino a prima dei 70 anni vorrebbero andare in pensione 65 anni non ci vanno perché non gli danno cazzo di pensione adesso per scarsità di politici continueremo a essere malamente rappresentati perché io non credo che diminuendo il numero di parlamentari e di senatori aumenti l'efficienza e l'efficacia della politica italiana se fino adesso ci sono corrotti a ogni livello sindaci assessori intendenti regionali comunali provinciali ci c'è uno scandalo al giorno anzi in internet si leggono molte più cose di quello che mamma rai dice che poi fra l'altro ti vogliono convincere che è più facile pagare la bolletta della rai che te la mandano nella fattura dell'energia elettrica nella nella bolletta dell'energia elettrica invece una balla perché così ti aumenta la bolletta elettrica capito è una cosa assurda stanno facendo delle cose assurde io non riesco a capire tutti questi cambiamenti rinnovano tutto per non cambiare un cazzo dovrebbe essere libero l'abbonamento alla rai chi vuole fare se la guarda pay per view e chi non vuole non paga e non se la guarda quanti mangiano della rai quanti partiti politici lo stesso che con la finanziazione pubblica dei giornali e dei partiti politici vabbè allora il mio pensiero riassumendolo il seguente se si vota se si tagliano le stesse alla politica però il rischio è che si tagli anche con questa riforma della costituzione italiana la rappresentanza dei cittadini italiani nella politica perché diminuiscono i politici e ci sono ci saranno meno rappresentanti per i cittadini italiani se si votano si conserva un sistema affollato di politici di questa casta politica molto ipertrofica che lo stesso per inefficienza inefficacia non ci sarà presentare anche se attualmente c'è una inflazione di amministratori delegati dirigenti politici ce ne sono tanti ma non sanno fare un cazzo perché stiamo andando allo scatafascio quindi sia che diminuiamo il numero dei politici o che gli aumentiamo per me non va a cambiare nulla perché sono così scemi e privi di scrupolo ladri inesperti inorganizzati inefficienti inservibili inutili e inefficaci che se passa il sì riducono il numero di politici e non è che lavoreranno di più sempre lo stesso risultato avremo se invece passa il no ci teniamo tutta la sfida di politici che abbiamo adesso e continueranno a lavorare anche se sono molti come lavorano adesso per niente quindi che siano pochi o che siano molti se diminuisce il numero dei politici si aumentano lo stipendio quindi che cambia ridurre il numero dei politici per ridurre le spese della politica se si stanno costantemente aumentando i privilegi le diete perché loro non hanno diritti loro non versano contributi loro non lavorano dovrebbero gli onorevoli lavorare ad onore cioè per l'onore non per il denaro invece ricevono dei contributi dei risarcimenti delle indenizzazioni delle spese sempre in costante aumento per fare che poi alla fine non fanno un cazzo allora se passano rimane lo stesso numero di politici che si continua aumentare i risarcimenti e poi a ricevere anche pensioni che non hanno diritto perché non hanno contribuito in nulla se invece passa il sì ridurremo il numero dei politici però loro continueranno aumentarsi ancora di più i soldi perché il presupposto per la politica sarà lo stesso e se lo ripartiranno in un numero minore di politici rappresentando gli stessi partiti quindi metà andrà ai partiti politici e sarà più grassa più grossa più consistente la somma di denaro che politici intascheranno quindi per me io non so come voterò con molta probabilità voterò per il no anzi voto per il no perché tanto cambiare per andare in peggio però se voti si sappi che diminuiranno i politici ma si aumenteranno la dieta i soldi che percepiscono gli indennizi i ri indennizi e quindi alla fine come si aumentano i politici quindi io voto no tanto fino adesso siamo andati male con una buona costituzione che non è mai stata rispettata perché farne una nuova che non sarà mai rispettata come non è stata mai rispettata l'unica costituzione che è stata infinitamente ritoccata soprattutto negli ultimi vent'anni beh questo è stato il mio pensierino del giorno cari amiche ed amici vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi un saluto dal vostro santo in cian mi raccomando non lasciate di seguirmi e da presto ciao e mi raccomando non scordatevi di sottoscrivervi a questo canale di votare mi piace video che vi piacciono di lasciare dei commentari ai video di avviare delle discussioni nell'appartato discussioni del mio canale e di consigliare ai vostri amici parenti familiari conoscenti contatti di guardare il mio canale di youtube santenchan un abbraccio e a presto e grazie di seguirmi poi più la farò un video che ho sempre posticipato perché ho superato le 280 mila visioni del canale e volevo fare un video per ringraziare tutte e tutti voi di aver superato le 280 mila visioni in realtà già lo volevo fare una volta raggiunte le 200 mila visioni del canale poi lo volevo fare una volta raggiunte le 250 mila visioni del canale ma non ho mai tempo anzi lo volevo fare una volta raggiunte le 150 mila visioni del canale e 180 mila eccetera allora più la farò un video forse avrò già raggiunto le 300 mila visioni del canale non lo so arrivederci ciao dal vostro santenchan è un saluto particolare a Mimmo Corcioni ciao Mimmo sei forte continua così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti